signori riprendiamo il nostro journey allora abbiamo cambiato il talismano 205 c'è da farle di shadow core c'è da farle di shadow core vabbè facciamo una tentativa qua vediamo se ci siamo qua ci siamo siamo maledetto forse è quello dove sto tribulando di più un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, però il pylon, cioè nel senso lo posso mettere, però devo... Devo integrare qua con una... Prendi su, cazzo... Ho sprecato una... Prendi su... 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 Allora, l'altro dove lo possiamo fare? Un po' per qua. 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 Allora. Verrima. questo è per adesso non fattibile questo qua va anche questo loco di station andron, proviamo a sbloccarlo, perché sbloccarli è importante, c'è ancora la gemma rossa come tratto di battaglia, dunque dobbiamo farli convergere prossimo un po' di rio 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 partite royale Devo metterlo un pochino più avanti Palle Anche lì sarà difficile Poi Sticchiare Non so perché 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 Perché Non so 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 perché